Magazziniere per tutti, ma per arrotondare, aveva scelto un secondo lavoro, coltivare marijuana. Nei guai un 46enne di Vigo d'Arzene, ma da qualche tempo residente a Treviso. Durante un controllo nelle strutture ricettive di Padova, in quello che doveva essere un bed and breakfast, la polizia ha trovato una piantagione di cannabis. L'abitazione, adibita locazione turistica, è intestata a un magazziniere 46enne, che si è giustificato dicendo che quello era uno strumento per arrotondare lo stipendio. Insospettiti da strani odori e rumori di un potente impianto di areazione, i poliziotti hanno approfondito i controlli. Durante il sopralluogo, in un box in cartongesso, sono state trovate e sequestrate 58 piante per un totale di circa 4 kg di infiorescenze sistemate in un garage trasformato in una serra. Oltre alla strumentazione per mettere a frutto le piante, sono stati trovati anche 300 g di droga già confezionata. Il 46enne è stato arrestato e messo ai domiciliari nel suo bed and breakfast a Vigo d'Arzene, in attesa di convalida dell'interrogatorio di garanzia.